c'è questa cosa delle particelle virtuali arrivano in esistenza e spariscono in un tempo così rapido che non riesci a misurare la loro esistenza e l'indruro di elio è stato rilevato nello spazio per la prima volta il primo tipo di molecola che si è formato nell'universo è stato rilevato nello spazio per la prima volta che odore si sente sulla ISS può sentire l'odore dell'aspir e così così sta dicendo che la tua pipì sta orbitando la terra sì apparentemente così non ci ho mai pensato ma sì un pochino si cristallizza e poi sparisce no questo è in realtà il contenitore con dentro l'urina lo abbiamo avuto dai russi e l'abbiamo collegato al nostro sistema di riciclo così come gli stati uniti sono stati la prima nazione a raggiungere la luna nel ventesimo secolo così saremo la prima nazione che tornerà con gli astronauti sulla luna nel ventunesimo secolo come pensate di arrivarci con questo bidone della spazzatura noi sogniamo alla grande adesso le sentite proprio tutte si usa così e poi la macchina faccia caccia 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 poi finisce in cambusa noi sogniamo alla grande è il robot Sofia Sofia benvenuta come possiamo usare IA per fermare o rallentare questa diffusione di coronavirus spegnite il vostro televisore immediatamente può aiutarci a trovare la cura? ve l'ho appena detto come si può fermare il futuro della pandemia in modo che non accada più? da dove prendono questi tipi?